I razzi sono un insieme di formule matematiche e fisiche e per creare un razzo ci vuole moltissimo studio e ricerca Infatti è considerato uno dei più grandi successi dell'umanità Prima di continuare mi presento, io sono Luca e sono un divulgatore scientifico e racconto un'astronomia facile e veloce Ma ora ritorniamo al video Ma come funziona un razzo? Esistono diversi tipi di razzi ma alla base si usa sempre il terzo principio della dinamica Ma cosa ci dice questo principio? Ogni azione provoca un'azione uguale e contraria e parole molto semplici Il gas molto caldo viene spinto verso il basso che a stavolta spinge il razzo verso l'alto E questo innalzarsi viene chiamata spinta che è causata dalla rapida espansione del gas E questa rapida espansione del gas è causata a stavolta dalla combustione del propellente Che è l'unione tra il combustibile che è la parte infiammante e il combustibile che è la parte ossidante Esistono due tipi di proporzione di razzo, quello a combustibile solido e liquido Iniziamo con quello a combustibile solido Prima di continuare con il video potresti iscriverti al canale e mettere un mi piace perché a te non costa nulla Ma a me faresti un grandissimo aiuto per la mia divulgazione Grazie mille se lo farai Ma ora ritorniamo con il video col capire come si forma il combustibile solido Il combustibile e l'ossidante vengono mescolati insieme formando un cilindro solido E questo composto ha una consistenza gelatinosa Quali tipi di ossidante si possono usare? Beh ci sono diversi tipi di ossidanti per esempio il clorato, il nitrato o il perossido di idrogeno Invece quali tipi di combustibile si usano? Beh si usa generalmente in zolfo, ammoniaca, metalli o polveri metalliche Un difetto di questa tecnologia è che quando inizia la combustione non puoi fermarla Quindi brucerà fino alla fine Generalmente questi razzi vengono chiamati booster e li troviamo ai lati del razzo Anche se il superivi di Starship viene anche chiamato booster Però usa dei propellenti liquidi quindi non è detto che se c'è la parola booster dovrà avere un propellente solito Tra l'altro se vuoi capire che cosa ha fatto nel secondo lancio di Starship E capire un po' cos'è questa missione beh ti lascio il link in descrizione oppure puoi prendere sull'info Invece quelli a propellente liquido sono più complessi perché banalmente hanno più componenti Ha i serbatoidi che contengono i combustibili, le pompe che mettono a pressione i liquidi E ha la camera di combustione e l'ugello A differenza di quelli a combustibile solido il propellente liquido è in grado di essere spento quando è necessario Ma adesso la vera domanda è ma come facciamo a far partire il razzo? Per prima cosa tramite dei condotti i liquidi entrano nelle pompe Che servono per aumentare la pressione forzandoli ad entrare nella camera di combustione Quando entrano nella camera di combustione l'ossidante cioè l'ossigione liquido si mischia con il comburente Che può essere il kerosene, l'idrogeno o il metano Creando così moltissimo gas che spinge verso le pareti della camera di combustione Ed esce nell'unico punto che può uscire cioè nell'ugello Questo accetto ha una forma più precisa perché grazie a questa forma ci permette di velocizzare il flusso di fuoriuscita del gas di scarico E ci permette quindi anche di raggiungere velocità elevatissime Che grazie al terzo principio della dinamica di Newton ci permette di far alzare il razzo Oltre al propulsore abbiamo tre parti importantissime che sono il sistema di guida, il carico utile e il sistema strutturale Insomma per parlare del sistema di guida che ci fornisce stabilità, razzo e ci controlla i movimenti durante la discesa Poi abbiamo il carico utile dove si possono mettere satelliti o esseri umani Insomma dipende un po' da missione a missione E poi infine abbiamo il sistema strutturale che deve essere leggero e robusto E deve essere progettato per resistere a diverse condizioni climatiche Per esempio alte pressioni o temperature estreme che si possono verificare per esempio al momento del decollo O durante la fuoriuscita dell'atmosfera o in altri punti della missione E il materiale che si usa più frequentemente per questo scopo è la fibra di carbonio Perché è altamente resistente e non compromette l'integrità strutturale Ma ci siamo chiesti per come un razzo sia diviso in più strani Cioè quali vantaggi ci può dare questa suddivisione? Beh serve per calibrare con più precisione le spinte che servono al ranzo Voi sapete che il razzo per riuscire ad uscire dall'atmosfera Deve avere una velocità minima che è di 40.294 km orari E serve per svincolare la trazione terrestre Beh è un po' come se pensate Noi prendiamo una cannuccia e cerchiamo di bucare il palloncino Se la tiriamo lentamente magari non si buca Ma se la tiriamo fortissimamente si buca il primo colpo Un po' il meccanismo è lo stesso Oggi finalmente hai capito il funzionamento di un razzo Ma se hai qualche domanda su un argomento Che ho trattato in maniera superficiale Oppure che non hai capito Beh esistono i commenti proprio per la tua domanda Ebbene sì il video è finito Ma noi ci rivedremo sempre qui Su questo canale con un nuovissimo video Ciao Ciao